questa è la non so forse la settima ottava volta che vengo all'acqua cetosa a fare queste visite mediche test fisici la prima volta risaliva al 2001 quindi per i giochi del mediterraneo della Turchia perciò ormai sono abbastanza di casa e è sempre molto utile fare queste visite soprattutto la parte di visite mediche perché poi per chi come me inizia sulla soglia che ha già ormai 36 anni fa bene fare un controllino di salute anche credo per evitare a parte scherzi la situazione che si è creata con il caso pietro si bello per le olimpiadi di londra quindi controllare prima prevenire è meglio che curare ecco questo il discorso sono analisi estremamente interessanti fanno veramente uno screen totale della persona e dopo queste analisi siamo almeno tranquilli di essere sani in buona costituzione ma veramente è uno sforzo economico non indifferente quindi per la federazione per il CONI perciò è veramente un'ottima occasione per noi e va sfruttata poi invece la parte la parte atletica che stiamo che per la prima volta stiamo facendo è un qualcosa molto innovativo nel senso facciamo dei test a remergometro dei test di corsa sul consumo dell'ossigeno ci controllano il rilascio di acido lattico di lattacio del sangue quindi quindi per valutare anche la capacità di recupero questo serve molto a capire anche in che se l'atleta è allenato in che in che in che forma reale si trova l'unico neo è che noi velisti un po' nulla facenti siamo un po' lontani dal vero e proprio prototipo di sportivo quando facciamo queste prove sul remergometro corsa che sono comunque strumenti che raramente usiamo per l'allenamento andiamo un po' in crisi io personalmente ho ancora il sedere e mi fa male per il remergometro quindi però è comunque un qualcosa estremamente interessante e utile ora che abbiamo sciolto un po' di riserve su che barca su quale barca andare quindi mi sto concentrando sul sul lacra 17 anche se poi vediamo come andiamo come sempre e l'allenamento cioè inizio a pensare un po' i parallelismi che ci sono tra il 470 e il NACRA per cercare in maniera multilaterale interdisciplinare di portare le mie conoscenze del 470 su questa nuova barca che per me ancora è nuova e fisicamente mi sto allungando la carriera perché questo catamarano è ancora meno faticoso nel ruolo chiaramente del timoniere mentre per il prodiere è comunque una bella barca impegnativa però per il timoniere il catamarano è estremamente leggero non è una barca faticosa serve più che altro destrezza e molta attenzione più che forza o resistenza e poi soprattutto il 470 ultimamente con il pompaggio libero che è sempre più frequente perché i limiti con cui si usa il pompaggio libero di vento i limiti di vento con cui si usa il pompaggio libero sono sempre più bassi quindi si pompa praticamente sempre diventa una barca un po' più faticosa anche per il timoniere per il prodiere è proprio diventata una galera però anche il NACRA non scherza il prodiere deve fare parecchia fatica ha un'issata molto impegnativa la scotta del Genniker tira parecchio anche la scotta Randa è abbastanza dura quindi è soprattutto considerate che consideriamo che il NACRA è un equipaggio misto quindi nel mio caso in cui la povera Giulia deve fare i state ammainate e portare il Genniker per una donna è abbastanza impegnativo Giulia Zappacosta è la mia nuova protiera e abbiamo deciso di unire le forze lei faceva il timone su un altro NACRA con Edoardo Mancinelli poi siamo tutti romani poi Edoardo è dovuto andare a lavorare e lo ringrazio e quindi si è presentata questa bella opportunità per cui abbiamo iniziato ad allenarci un paio di settimane fa Giulia si è appena laureata quindi adesso si può dedicare allo sport della vela un po' di più cioè un po' di più a tempo pieno praticamente ed è quello che io le ho chiesto è quello che stiamo facendo siamo chiaramente di nuovo all'inizio però in barca ci siamo andati quindi adesso non bisogna fare sempre la lagna del ma stiamo all'inizio adesso la barca la conosciamo abbastanza bene abbiamo già fatto un anno di esperienza bisogna mettere solamente le cose a punto ci stiamo preparando per il primo appuntamento di Coppa del Mondo a Miami ci andremo con l'aiuto della federazione e soprattutto della marina militare e quindi l'obiettivo è quello di partire subito in Coppa del Mondo anche perché noi siamo estremamente bassi in ranking non avendo fatto regate l'anno scorso perciò quest'anno innanzitutto dobbiamo fare le tre regate di Gold Cup di Coppa del Mondo che servono per accumulare i 200 punti a tappa in palio e faremo anche le regate di Euro Cup perché sono anche quelle molto importanti per salire in ranking e speriamo quindi con questa attività di arrivare in forma primondiale quindi essere tra gli equipaggi selezionati per andare al campionato mondiale a Santander a settembre che comunque rappresenta ancora per quest'anno l'obiettivo della stagione grazie